Assessore Cuzzi, ci sono importanti novità per quanto riguarda il centro commerciale naturale? Presentiamo un bel convegno sul centro commerciale naturale, sul commercio nella città di Pescara con uno dei massimi esperti nazionali ed internazionali bollettinari alle 16 nella sala figlia di oro del palazzo della provincia appunto lacceremo una serie di idee, una serie di cose che già abbiamo fatto per rilanciare quella che è la vocazione attrattiva della città che poi ha fatto sì che si sviluppasse il commercio e il terziario nel centro abbiamo appunto 2300 attività imprenditoriali con un indice commerciale molto elevato, un'attività ogni 8 abitanti e vogliamo far sì che Pescara torni ad imporsi in un'area molto più vasta dei propri confini che riguarda circa 460.000 abitanti e 30 comuni raggiungibili in 20 minuti di automobile dal centro cittadino appunto per rigenerare l'attrattività e poi far sì che questo settore molto importante possa ripartire nel centro abbiamo la più alta concentrazione di attività commerciali che oggi soffrono per via della crisi nazionale e internazionale per via del fatto che intorno alla città c'è la più alta concentrazione di centri commerciali d'Europa quindi vogliamo mettere insieme una serie di buone pratiche che partono dal decoro, dalle iniziative, dagli affitti a canone calmierato dalla lotta all'abusivismo che fanno sì che il nostro centro ma interamente la nostra città commerciale torni ad essere appetibile per tutta quanta la regione e per tutta quell'area vasta di cui Pescara è da sempre punto di riferimento